There's no place I'd rather be 5, 4, 3, 2, 1 E io mi sono Trian Fio, oggi ragazzi siamo qui tornati in un nuovo video Questa è tipo ragazzi la prima volta che faccio un video dal telefono Della cosa più brutta del mondo Sono tipo straabituata alla macchinetta, all'alta qualità E vedere sto schifo è un po' brutto Però comunque ragazzi è tipo un video che ho fatto straimprovvisato E il video di cui sto parlando appunto è la De Flori Slava Ho fatto un giro diciamo quando ero con mamma fuori Così comunque quando stavo appunto passeggiando Tiravo fuori il telefono e facevo mamma De Flori Slava oppure lei Sivi De Flori Slava No Sivi, Sivi Cioè è un po' preoccupante se mia madre mi chiama Sivi Cioè Silvia, Silvia Ragazzi mi sembro tipo una di quelle youtuber fallite Che faccio ancora i vlog col telefono Che poracciata ragazzi 300.000 iscritti e faccio ancora i vlog O i video con il telefono Niente Mi mando un battone, divertitevi a vedere questo video Questa ragazzi sarà una delle pochissime volte che porterò tipo dei video fatti con il telefono Vabbè ragazzi dei video fatti con l'iPhone 7 comunque la qualità è buona Mio Dio ha detto hai fatto trenta tanto per bantarti E niente, noi ci vediamo appunto nell'outroom per i saluti finali Piau Silvia Flori Slava Oh my god Mamma De Flori Slava Da Flori Slava 5 4 3 2 1 2 E vai Grande De Flori Slava 1 2 3 4 Ragazzi Ma dove vai mamma? No 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 Flori Slava 5 4 3 2 1 De Flori Slava 1 2 3 Vabbè questa era semplice dai Da Flori Slava 5 4 3 2 1 Sono loro, questo bel flash Io li voglio lanciare una bella De Flori Slava Quindi adesso ragazzi avete 5 secondi a partire da adesso 1 2 3 4 5 Oh che bravi Ragazzi salutate un pochino Ciao 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 Niente Divertiamo con queste strade alternative Buonasera Alla De Flori Slava Mi sta tipo scoppiando il cuore però Non si vedeva quindi eccolo qua Saluto Ciao Ecco Ragazzi sapete che ho sempre riuscito a fare i video con il telefono Soltanto che ero fuori casa e così totalmente accanto ci è venuta di registrare questa challenge Quindi sapete tipo che la qualità è scarsa mi dispiace tantissimo Però tipo non mi andava di prendere la macchinetta e tutte queste cose qua Aspettate ragazzi prendo la faccia Ferma te la sto prendendo Eh che ha presa Da Flori Slava 5 4 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 5 5 5 5 8 9 9 10 10 10 10 10 8 10 10 10 12 13 14 15 15